E' una vera disdetta questo Covid-19, una seconda ondata preoccupante che in provincia di Teramo fa salire il numero dei contagiati a 141. Alcuni sindaci hanno già adottato, stanno per emanare, misure drastiche per arginare la diffusione del virus. Il caso simbolo è quello del comune di Colonnella. Il sindaco Leandro Pollastrelli, dopo aver disposto la chiusura delle scuole, ha chiesto all'asla di Teramo di poter procedere con tapponi a tappeto per tutta la popolazione scolastica. Parliamo di circa mille studenti, oltre a docenti e personale ATA. Un passaggio indispensabile per il primo cittadino che annuncia che semmai l'asla non predisponesse i tamponi, questi saranno fatti seguire da un laboratorio privato, a spese dell'amministrazione comunale. Solo dopo questa verifica, insiste Pollastrelli, riapriremo le scuole. Si tratta del primo provvedimento del genere adottato in Abruzzo dalla ripresa delle lezioni. Pollastrelli avrebbe assunto questa difficile decisione, preoccupato per il crescente numero di casi nel suo comune. Al momento sono 13, ma soprattutto per l'accertata positività di due operatori scolastici. Il sindaco stesso e l'intera giunta sono in isolamento volontario, dopo che un assessore comunale è risultato contagiato dal Covid-19. Tutti sono in attesa del risultato del tampone, mentre all'Istituto Comprensivo, Corropoli, Colonnella e Controguerra sono state già attivate le procedure per l'avvio della didattica a distanza. Nel Terramano i casi più numerosi di contagi si registrano a Teramo, Capoluogo, a Silvi, Giulianova, Civitella del Tronto e Colonnella. E in attesa dell'approvazione del nuovo decreto Covid, che stabilirà l'obbligo della mascherina anche all'aperto, si intensificano i controlli e le multe a Teramo da parte dei vigili urbani, soprattutto nei luoghi pubblici al chiuso, dove la mascherina è già obbligatoria. Infine il direttore generale dell'Asla di Teramo, Maurizio Di Giosia, invita tutti gli operatori sanitari a comportamenti privati che non mettano a rischio di contagio loro stessi e i pazienti, per un po' stop feste numerose o cerimonie troppo affollate.